Presso la sede di Confartigianato Taranto si è svolto un incontro con l'onorevole Dario Iaia, parlamentare di Fratelli d'Italia, per discutere sulle misure governative ed attuare per lo sblocco dei crediti presenti nei cassetti fiscali delle imprese, lo sconto in fattura e la cessione del credito. Il deputato ha sottolineato la vicinanza del governo a tutte le imprese del territorio. Il governo è vicino alle imprese, a tutte le imprese, in particolar modo alle imprese artigiane e anche a Confartigianato come associazione di categoria. In questi giorni siamo impegnati per approvare un decreto legge importante, che è quello che attiene ai crediti incagliati nell'ambito delle edilizie e bonus edilizie, per porre fine ad un buco che è stato determinato all'interno del bilancio dello Stato. La nostra filosofia politica è quella che espira la nostra attività e non creare problemi alle imprese che intendono lavorare. Nel corso dell'incontro si è discusso di mondo produttivo e dell'artigianato e della difficile situazione che stanno vivendo le imprese. Ringraziamo l'onorevole per questo importante incontro, in un momento in cui insieme al governo lui è molto impegnato nel tentativo di risolvere le problematiche che ci stanno attanagliando in questo periodo. Che cosa chiediamo al governo? Innanzitutto chiediamo chiarezza, chiarezza per cercare di sistemare tutte le varie correzioni e i vari decreti che si sono succeduti. Quindi chiarezza e soprattutto velocità. Velocità perché la situazione delle imprese è veramente al collasso. Non riusciamo a sbloccare i crediti, le banche non ci rispondono. All'inizio erano molto più veloci, adesso probabilmente anche loro attendono chiarezza da parte del governo.